ciao a tutti ragazzi sono io caldo forever e le mettonati sul mio canale sto registrando questa terza parte subito dopo la seconda quindi devo ancora mettere in ordine ma comunque facciamo presto se non avete visto nella prima o nella seconda oppure una avete vista l'altra no vi invito a andarla a vedere perché sono molto belle e direi che possiamo cominciare con la terza parte otteniamo gli ultimi 6 pacchetti della prima colonna e speriamo di trovare qualcosa di bello ok cominciamo ok dimmi che si salva si si è salvato bene mi dà mio 2x è salvato adesso mi manca solo quello zoro art tiro l'altro pacchetto dopo ok primo codice porto i pacchetti perché se non non riesco a mettere le mie mani pietra lieve magneton pescatore fennekin pancham miau sensi di swinab rai su raro reverse e rai cuolo bello bello rai cuolo non ci si lamenta mai raro reverse lo mettiamo qua sono tutto organizzato scusatemi ma giova che non ti salvi anche te però codice speriamo di trovare qualcosa legame mentale con miutu che va la vanilish philadin elgem ghastly miau panseer razz lettera del prof reverse e vanilux raro va bene va bene va bene vanilux raro non è che sia bellissimo però ci sono anche quelle rare che insomma non ti piacciono mai un altro megami quiz salvato scusate che è entrato mio padre non gli ho detto che stavo facendo un video quindi non è colpa sua codice e trick pilosoin oh c'è qualcosa bryxen colpetto assalto noibat pikachu magnemite snubbull remorade legame mentale colandum reverse e miutu ex bello 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 miutu ex bello avrei preferito un mega miutu però vabbè fa lo stesso molto bello anche questo ok scusate le bocci però c'è gente fuori andiamo ad aprire zoroark oh dimmi che si salva si si è salvato anche zoro bene non si è salvato male se mi fredda eh però devo uscire carte dovete uscire però madonna ok codice e ma chiria oh città parallela bene 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 i i i i bene bene grambull la bebe zoroa fennekin doduo chespin gastri reverse e marua claro marua claro si però è più bello marua claro si però è più bello marua claro o furbo come si chiama in italiano penultimo pacchetto di questa terza parte codice ursaring piano di giovanni colette paras panseer exxu ramorade pikachu pirodron in reverse aromatis raro aromatis non lo sapevo neanche che l'avessero fatto raro oh scusate di nuovo il telefono ultimo pacchetto di questa terza parte ultimo pacchetto della prima colonna megan copy y oh che mmm z2 quando ho capito il telefono mamma mia scusate ma la videocamera deve ancora arrivare madonna sto fremendo ultimo codice di questa terza e la prima colonna abbiamo Behem Seeking Starmy o c'è qualcosa Zuinub, Noibat Skiddo, Zorua Vanillite, Dodo Reverse e Mega Mewtwo XX bene 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 va benissimo bello 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 molto molto bello perfetto ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su un like iscrivetevi, commentate che mi fa sempre piacere e noi ci vediamo alla prossima volta con la quarta parte ciao ragazzi